Ci troviamo nelle strutture dell'Olmo Ponte, ottime strutture che ospitano la formazione della Forti Sarezzo al suo primo anno di esistenza. Un inizio veramente rivolgente sotto la conduzione del presidente Francesco Martoglio, un inizio con 5 vittorie consecutive senza subire il portiere Claudi, uno dei più forti portieri della categoria, anche se ne ha subite dopo qualche luna in più. E' stata decisiva la partita con la Capresana a testa della classifica, il famoso rigore sbagliato all'inizio del secondo tempo e la sconfitta immeritata con una punizione deviata dalla barriera a rete, dal ipotetico pareggio in classifica generale. Siamo andati a meno 6 e dopo infortuni e squalifiche varie. E quindi ha deciso la presidenza, la dirigenza praticamente da Forti Sarezzo con cui il suo presidente Francesco Martoglio di prendere le decisioni per dare una svolta, non per incapacità di Mirko Latorraca che chiaramente si è comportato non bene ma di più, ha fatto tanto, chiaramente per dare una scossa alla squadra, la dirigenza ha pensato di sostituirlo. Certo. Francesco, ci tengo a precisare che comunque si ha una decisione presa di comune accordo dopo la sconfitta di domenica di 3 a 1 contro il Saluteo in Casentino, quindi era doveroso poter dare uno scrollone a questa squadra, a questi giocatori che nonostante il mercato di riparazione non si sono smobilitati da dove l'avevamo lasciati. Quindi ci siamo, dopo una riunione di urgenza, ci siamo comunque presi questa decisione di sostituire l'allenatore che rimane comunque sia nell'organico della dirigenza e affidare la panchina a un nuovo allenatore che vanta un gran passato, quindi una promozione in seconda categoria con il Quarata che è Raffaele Cherubini, allenatore e persona preparata sotto tutti i punti di vista. Quindi ci auguriamo già da domenica nel campo della Lorese di riprendere il nostro cammino che avevamo cominciato ad inizio stagione. Allora un ringraziamento a chi lascia, a mister Mirko Latorraca e in bocca al lupo a chi arriva Raffaele Cherubini, l'ha già presentato il presidente Francesco Martoglio, un passato diciamo così in agrodolce, promozioni e poi promozione a Indomito Quarata, seconda categoria, poi ha lasciato e poi ritorna in campo, si rimette in gioco Raffaele. Allora con quanto entusiasmo e con quale entusiasmo? Sicuramente l'entusiasmo per lo sport che fin da sei anni ho fatto, per cui il calcio è dentro la mia vita. Ovviamente dispiace sempre subentrare a un collega, quindi c'è un esonero e il subentro è sempre comunque difficile per chi viene. Spero di ripagare la fiducia che mi ha dato la società, quindi Francesco in particolar modo e con umiltà ci dobbiamo preparare fin da stasera a cercare di ottenere il massimo da queste 14 giornate che ci attendono da qui alla fine del campionato. E l'augurio che fa questo emittente, allora in bocca al lupo che il lavoro già iniziato, intrapreso da mister Latorraca possa essere proseguito più che altro dal momento che abbiamo seguito quasi tutte le partite sotto l'aspetto non tanto, sotto l'aspetto tecnico perché tutti i giocatori che provengono, forse la difficoltà è questa provengono da una categoria superiore. Sembrai assemblare mentalmente questi ragazzi che forse è sfuggita loro la voglia di lottare e con l'entusiasmo che Raffaele cercherà di inserire loro potranno, per lo meno non dico ora ci sono diversi punti, da 21 a 37 punti, sono 16 punti di differenza ma c'è un giurone di ritorno da chiudere quindi con l'entusiasmo, con la carica agonistica sono convinto sicuramente che un rimedio possa essere intrapreso. Se saranno bravi a risettare quello che hanno fatto finora e tirar fuori l'uomo che è loro possono fare credo qualcosa di importante però sta loro, sta noi tutti insieme di cercare di fare il meglio possibile e lavoreremo per questo. E noi cercheremo di essere, di farvi vivere praticamente le emozioni che dovranno poi darà il nuovo mister Raffaele Cherubini e il presidente Francesco Martoglio. Grazie e in bocca al lupo.